Come sarà l'Inter 2022-2023? Mancano poco meno di tre settimane all'inizio del campionato, non vediamo l'ora e l'Inter di Inzaghi si sta già cominciando a dilineare. Nonostante questo però attenzione perché la squadra non è ancora al completo, ci sono diverse opzioni anche intriganti sul mercato e anche altre questioni, non solo mercato ma anche legate al campo ancora da risolvere. Amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, bentornati. Benvenuti in questo nuovo episodio dove cercheremo di darvi tutti gli ultimissimi aggiornamenti di mercato andando poi a ipotizzare l'Inter 2022-2023. Questo tipo di contenuto l'abbiamo già portato tre settimane fa ma in mezzo sono successe tantissime cose e diciamo che l'orizzonte è anche cambiato e per questo abbiamo ritenuto necessario questo aggiornamento per voi tifosi nerazzurri e anche per noi della redazione di Passione Inter. Prima di partire però con l'aggiornamento vi invito a lasciare un bel mi piace e iscrivervi al nostro canale perché sono cose importantissime, sembrano banali ma sono veramente fondamentali per sostenerci per far crescere il progetto di Passione Inter. Comunque detto questo andiamo poi a succo del contenuto. Vi darò gli aggiornamenti per quanto riguarda l'Inter man mano che andremo avanti nei ruoli, vedete per chi ci sta seguendo da YouTube adesso vedrete una grafica con la situazione momentanea all'Inter e poi vi farò vedere un'altra grafica in cui invece vi presenterò quella che noi crederemo sarà l'Inter 2022-2023. Partiamo dalla porta in cui non ci sono particolari novità, il duarismo Andanovic e Onana dove il capitano Nerazzurro ha il netto vantaggio e Onana poi si saprà giocare le sue carte lungo la stagione e per i prossimi anni. Ma è la difesa ovviamente il reparto che ci interessa maggiormente in questo momento, il reparto che tiene un po' il banco del mercato Nerazzurro. Partiamo dalla questione più spinosa, più calda del momento che è quella legata a Milan Skriniar. Notizia di oggi molto importante è quella di Inzaghi che si è puntato per la permanenza di Mila Skriniar e più avanti vedremo anche di Denzel Dumfries, dopo che Bremer è sfumato l'allenatore Nerazzurro ritiene fondamentale la permanenza di Skriniar, cosa che ovviamente io condivido e al netto di alcune voci che sono uscite tra la giornata di ieri e quella dell'altro ieri, non c'è al momento nessun incontro in programma tra Inter e Paris Saint Germain, la stessa società Nerazzurra ha smentito queste voci, in realtà l'offerta del Paris Saint Germain è ferma ormai da ormai tre settimane, quasi un mese, cioè quella di 50-55 milioni di euro, ma vista anche la richiesta di Inzaghi la dirigenza Nerazzurra è ferma al momento e per meno di 70 milioni di euro Skriniar non si vende. Ovviamente l'alternativa di Skriniar sarebbe Danilo D'Ambrosio, come vedete in grafica. C'è poi Stefan De Frey, che è un nome che negli scorsi mesi sembrava praticamente certo di partire, ma in realtà adesso sembra essere al contrario, quasi sicuro di rimanere. Altra notizia molto importante di oggi è che l'Inter, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe comunicato a Raffaella Pimenta, che cura gli interessi di De Frey, la volontà di rinnovare il contratto del difensore, che come sappiamo, come per Skriniar, scadrà nel 2023, quindi alla fine della prossima stagione, cosa direi molto importante. C'è poi da riempire la casella del vice De Frey, ma di questo ne parleremo più avanti in questo contenuto. A sinistra Bastoni, sicurissimo di rimanere, e poi vediamo Di Marco come vice Bastoni, un po' come la scorsa stagione. Ma attenzione, perché qui è il primo spunto che vi voglio dare, visto che c'è anche questa casellina di vice De Frey da riempire. Gosens ha avuto questo affaticamento muscolare, niente di preoccupante, potrebbe anche rientrare contro il Lione, ma attenzione perché comunque Gosens non dà le stesse certezze che dava ovviamente Perisic la scorsa stagione. Quindi non c'è da escludere questa opzione, ovvero l'acquisto di un difensore low cost che magari sia mancino e che quindi possa giocare anche come vice Bastoni e un Di Marco che magari può essere spostato leggermente più avanti come stendo sinistro a Darman Forte, a Gosens e anche a Darmian che al momento sarebbe il vice Gosens. È un'opzione di cui avevo parlato tanto anche nel club di Passione Inter. Quindi questa è la situazione al momento nella difesa del difensore low cost, parliamo leggermente più avanti. Spostiamoci al centrocampo che sembrerebbe essere un reparto praticamente al completo, ma attenzione perché a destra vi ho messo Dumfries in arancione, perché oltre a Skriniar anche Dumfries potrebbe essere un partente dell'Inter, ma vi dico la mia ragazzi, non lo vedo un scenario possibile. Il primo motivo è perché Inzaghi come Perisicania si è puntato sulla permanenza di Dumfries e poi ci sono anche un altro paio di questioni, ovvero che il Chelsea non ha fondato, ha chiesto semplicemente delle informazioni per il Denson Dumfries e la seconda è ovviamente legata al Mondiale perché attenzione, Fangal ha avvisato i giocatori olandesi che sarebbero, che scusatemi, verrebbero convocati al Mondiale soltanto se giocassero titolari nella propria squadra. E un Dumfries che va al Chelsea rischia di non giocare titolare o comunque di avere meno chance che qui all'Inter. Il giocatore lo sa benissimo e quindi teniamo conto anche di questo. Dumfries ve l'ho messo in arancione, ma ripeto, è una situazione remota al momento. L'Inter farebbe anche male avendola al momento con il Mondiale Le Porte in cui Dumfries magari potrebbe anche accrescere la propria valutazione di mercato. In questo momento se c'è un partente, quello è Skrignac, sicuramente non Dumfries, però attenzione, monitoriamo comunque la situazione dell'olandese. Poi al centrocampo Brozvic, Barra di Lecce alla Noglu con le rispettive riserve Aslani, Nikitarian e Gagliardini e a sinistra Gosenz che comunque è certo di rimanere visto che è arrivato soltanto a gennaio e questo Darmian a sinistra. Un'altra opzione di mercato, oltre a quella che vi ho raccoltato prima legata a Di Marco, invece riguarda Matteo Darmian perché nel precampionato, l'abbiamo visto, ha giocato come braccetto di destra e questa polivalenza di Darmian chissà che non arrivi utile, sia utile anche all'Inter. Magari Darmian potrebbe essere spostato come braccetto di destra con Skrignac che all'accorrenza potrebbe fare da vice dei frai sostituendo l'olandese, magari l'Inter potrebbe acquistare un nuovo esterno sinistro così da avere comunque una fascia mancina un po' più competitiva di Gosenz Darmian, ma anche questa è un'opzione remota di cui però c'è da monitorare. Andiamo all'attacco, reparto di cui si è parlato moltissimo nelle ultime settimane, non solo per Di Bala ma anche per questo Mertens, onestamente una pista molto molto fredda, ne abbiamo parlato diverse volte in diretta, anche i nostri contenuti qui su YouTube, se l'Inter deve prendere Mertens che senso ha allora dare via Sanchez o che senso ha lasciar perdere Di Bala. Detto questo, alla luce di queste mie valutazioni, il reparto offensivo sembra essere abbastanza delineato con Lukaku e Lautaro titolari e Correa, Dzeko come riselve. C'è poi il quinto attaccante che al momento è Alexis Sanchez, situazione molto complicata su di lui perché al momento ha rifiutato le diverse offerte che l'Inter gli ha fatto per quanto riguarda la buona uscita, sta rifiutando anche le offerte che stanno facendo invece gli altri club per ingaggiarlo e quindi attenzione alla situazione di Alexis Sanchez, ad oggi è un giocatore dell'Inter ma mi sorprenderebbe molto se rimanesse per un motivo preciso perché Sanchez si ritiene ancora un top, di questo si può discutere, vuole giocare la Champions League ma come vi abbiamo illustrato nel contenuto legato alle liste qui su YouTube, Sanchez rischia di essere addirittura messo fuori dalla lista Champions League, quindi ecco se gli do, se gli devo dare un consiglio che vada via dall'Inter perché rischia di non giocare la Champions League. Come quinto attaccante invece è molto più probabile l'utilizzo di un giovane, ve l'abbiamo parlato nelle scorse settimane, questo giovane potrebbe essere molto probabilmente Valentin Carboni, visto anche che Muratteri è andato in prestito al Frosinone, esposito all'Anderlecht. Quindi questa è la situazione al momento per quanto riguarda la rosa dell'Inter, andiamo però a ipotizzare quella della prossima stagione dell'Inter 2022 e 2023. Come vedete qui ragazzi vi ho inserito in difesa Skriniar che crediamo rimarrà visto anche che il PSG non sta affondando e che Inzaghi si è puntato per la sua permanenza, vi ho anche inserito Dunfris a destra come vi dicevo prima, è una pista molto fredda quella del Chelsea, ma attenzione al vice De Frai, vi ho inserito l'etichetta low cost. Questo perché ovviamente ragazzi se vogliamo che Skriniar rimanga non possiamo aspettarci che arrivi un difensore da 30 milioni di euro come vice De Frai e dovremo accettare diciamo l'alternativa low cost. Due i nomi come alternative low cost principali, uno so che non vi scalda particolarmente, non scalda nemmeno me, è quello di Francesco Cerbi perché secondo me ricorderebbe un po' un Colorov puntata 2 e tra l'altro non sarebbe nemmeno a parametro zero e tra due anni l'Inter secondo me non lo venderà per una cifra mostruosa, anzi c'è il rischio che vada via a zero un po' come ha fatto Colorov questa stagione. La seconda opzione low cost invece mi scalda molto di più anche per ragioni economiche è quella di Zagadou, difensore francese del Borussia Dortmund, anzi ormai svincolato quindi un parametro zero, eh proposto all'Inter nelle scorse settimane mi intriga di più per diversi motivi, uno perché come a Cerbi è mancino e quindi si potrebbe alimentare quella opzione di cui vi ho parlato prima, magari un mancino che può fare anche da vice bastoni e Di Marco spostato come vice Gosens o comunque come Jolly a sinistra, ma soprattutto perché Zagadou è giovane, al netto degli infortuni che sicuramente ne ha avuto in carriera, secondo me è un ragazzo, un giocatore dalle grandi potenzialità e che se prendi adesso a parametro zero magari non farà benissimo ma tra due o tre anni lo puoi rivendere facendo anche una piccola plusvalenza. Quindi questo è quello che riguarda un po' il vice DeFry, ve l'ho detto ragazzi, se vogliamo che Schegna rimanga dobbiamo accettare un low cost nella posizione di DeFry. Il centrocampo rimarrà quello così come l'attacco. Quindi questa è la presentazione dell'Inter 2022-2023, almeno ad oggi 27 luglio. Vi invito ragazzi a scrivere nei commenti cosa ne pensate di questa Inter 2022-2023, se pensate che questa Inter possa vincere dei trofei in Italia, anche magari fare un bel percorso in Champions League, ma vi stavo parlando di attacco che è una situazione abbastanza intricata. Ci sono anche diverse critiche, si sta parlando molto, alcuni dicono che questo reparto offensivo non è completo, altri dicono invece che sia al completo. Per questo motivo abbiamo realizzato un contenuto molto interessante, lo abbiamo fatto uscire ieri e lo ha realizzato il nostro Simone Frizza. Se ci stai seguendo da podcast ti lascio il link in descrizione, mentre se ci stai guardando da YouTube ti invito a recuperarlo cliccando qui.